Con i loro 5 chilometri di lunghezza, quelle di Viterbo sono tra le meglio conservate d'Europa. Le mura che cingono il capoluogo della Tuscia raccontano una storia secolare, fatta di battaglie e di assedi, ma anche di scambi e incontri tra genti diverse. È scandita da torrioni e porte quadrate, con tanto di merli e camminamenti di ronda in alcuni punti, la suggestiva cinta muraria di Viterbo. Le testimonianze più antiche e tuttora visibili risalgono al 1095. Per difendersi occorreva costruire bene e in fretta e a Viterbo si utilizza un sistema davvero singolare. Questo tratto, che è molto lungo, viene costruito per tratti verticali, perché un documento dice che ogni famiglia doveva erigere un tratto di totte canne delle mura. Intanto si continuava a costruire e ad ambiare la cinta. I blocchi lapidei di dimensioni più ridotte e a forma meno regolare sono testimoni di una pagina di storia che vede protagonisti Federico II e cittadini di Viterbo nel 1243. Sono pochi i resti, ma queste in realtà sono le preziose testimonianze del grandioso palazzo fortificato fatto erigere nel 1240 dall'imperatore Federico II proprio a cavallo delle mura, con elementi architettonici innovativi per quell'epoca e fatto radere a solo pensate soltanto pochi anni dopo dal cardinal Capocci nelle interminabili lotte tra filopapali e filoimperiali. Passeggiando lungo le mura, le feritoie e le mensole in pietra per le ventiere e sportelloni di legno con lo scopo di coprire gli spazi tra merlo e merlo, rimandano alle epoche buie e piene di tensione degli scontri tra chiesa e papato. Dure battaglie e lunghi assedi che potevano essere a volte risolti in quello che era un vero e proprio effetto sorpresa, dissimoniato in questo caso da un passaggio totalmente invisibile all'esterno che corre esattamente sotto le mura e che noi siamo eccezionalmente in grado di mostrare. I viterbesi tramite questo punicolo riuscirono a arrivare al campo degli assedianti e quindi creando scompiglio in questo campo. Passarono gli anni e le mura pur con tutte le trasformazioni continuarono ad avvolgere la loro cintura di pietra intorno alla città di Viterbo. È stata fatta una proposta per fare, proprio partendo da questa zona di Valle Faul, una sorta di parco delle mura, quindi un parco aperto al pubblico che costeggia le mura. Valorizzazione che potrebbe passare anche per l'accessibilità dei camminamenti di alcuni tratti di quelle mura che, come cita la targa nei pressi dell'ormai scomparsa Porta Sonsa, garantivano l'accesso alla libertà rappresentata da quella città spesso simbolo nel Medioevo di affrancamento dalla servitù e indipendenza dai grandi poteri. Siamo allo sport calcio.